Rossello Olivotto Siamo riusciti a concludere nel quarto set, peccato perché abbiamo perso un'occasione, sicuramente era una partita dove potevamo esprimere un gioco migliore, potevamo portare a casa qualcosina, non ci siamo riuscite e adesso domani torneremo in palestra per preparare le prossime partite della settimana prossima con sicuramente un po' più di motivazione. Grazie a tutti.